Per testimoniare l'impegno della Regione Toscana nell'attuazione delle politiche sanitarie su tutto il territorio, il presidente Eugenio Gianni ha visitato l'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello in provincia di Grosseto, accompagnato dal direttore generale dell'Asla Toscana Sud-Est Antonio Durso, dal direttore del presidio Massimo Forti, dalla direttrice di zona Roberta Caldesi e dal dirigente infermieristico Nicola Drauli. Nel corso della visita il presidente ha incontrato alcuni direttori e dirigenti medici del complesso ospedaliero, confrontandosi con loro su numerose tematiche. Mi sono proposto entro i primi due mesi dell'anno di visitare tutti e 45 gli ospedali, dove sono spesso andato però con una sorta di campagna d'ascolto, se vogliamo in modo informale, non con la formalità delle riunioni specifiche definite, ma proprio per raccogliere idee e indicazioni su come fare poi quegli aggiustamenti che ci consentano di organizzare il nostro sistema ospedaliero e in generale il nostro sistema sanitario in modo tale da riuscire a arrivare l'anno prossimo a garantire lo stesso, anzi incrementare il numero dei servizi, ma contemporaneamente anche avere la percezione di come possiamo, perché è l'impegno che ho preso, anche ritornare a limitare quello che è il gettito fiscale che deriva dall'addizionale IRPEF. Derivante quest'anno siamo stati costretti proprio per arrivare in pari col bilancio della sanità. Queste visite del Presidente sono quindi l'occasione per fare il punto sull'erogazione dei servizi a livello ospedaliero. E diventa anche l'occasione per fare una linea strategica che insieme ai direttori generali, in questo caso come vedete vi è il direttore D'Urso, Antonio D'Urso che guida la sud-est della Toscana, per poter avviare un percorso di progressiva riforma con la consapevolezza che noi abbiamo fatto una manovra che tiene il sistema di sanità pubblica e conseguentemente proprio con l'orgoglio di sapere che è un sistema d'eccellenza anche fare quei giusti accorgimenti perché possa esserlo sempre meglio. Altrettanto strategici sono i servizi sanitari territoriali. Devo dire che qua noi cerchiamo di svolgere una funzione che porterà sul territorio i maggiori investimenti perché attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza potremo ammodernare e realizzare quelle che sono le case di comunità su cui per un'area come questa diventa fondamentale la politica sul territorio. Questa zona come tante altre zone della sud-est sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione per quanto riguarda gli immobili la sede di Orbetello ha a parte la casa della comunità di nuova realizzazione di ristrutturazione e adeguamento qui nella sede dell'ospedale è realizzato un nuovo immobile che ospita tutto il distretto in maniera tale da liberare degli spazi nel padiglione ospedaliero e quindi far diventare l'ospedale di Orbetello sempre più attrattivo per le cure ospedaliere e mettere le attività distrettuali tra la casa della comunità e la sede del distretto qui in ospedale. Ci sono investimenti importanti anche dal punto di vista tecnologico sia su Orbetello sia su Pitigliano ne segnalo uno particolare su Pitigliano che mi pare un segno di civiltà il nuovo mammografo digitale che inaugureremo a breve. Sempre nel presidio ospedaliero di Orbetello il presidente della regione toscana ha incontrato alcuni pazienti affetti da fibromialgia. Si tratta di una rara patologia reumatica extraarticolare che coinvolge diversi apparati ed è caratterizzata da un diffuso dolore muscolo-scheletrico che provoca un profondo affaticamento. Proprio a Orbetello una nuova sezione dell'AISF, l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, ha fra i suoi obiettivi quello di far diventare l'ospedale San Giovanni di Dio un centro importante per la diagnosi e la cura di questa patologia. Allora, io sono malata da fibromialgia da 20 anni. Purtroppo questa malattia è degenerativa, vanno avanti gli anni e questo mostro ci divora internamente. La vita cambia e ho deciso di non essere più invisibile. Dunque c'è bisogno di far sì che il mondo sanitario si muova per il riconoscimento di questa malattia come malattia invalidante. Il presidente Gianni ha dichiarato che i malati di fibromialgia sono fra coloro che possono trovare sollievo anche grazie alle forme associative che supportano la sanità toscana. In questo modo, ha detto, potranno avere il giusto e significativo apporto da parte del sistema sanitario pubblico. È un esempio di come poi progressivamente cerchiamo di intervenire attraverso coloro che hanno bisogno di cure e di assistenza costanti e non sono inquadrabili nella tipologia acuta con cui rispondiamo attraverso l'ospedale.